Al TEDx, all'Aquila, c'è Artem, noi ringraziamo Artem per essere ai nostri microfoni, i microfoni del capoluogo, siamo qui per parlare di crisi, di uscita dalla crisi e dei tanti modi in cui si può affrontare anche un contesto che non è facile a livello sociale, a livello anche economico, per però riuscire a fare qualcosa di più. Artem, ci racconti come sei riuscito tu ad uscire fuori da questo contesto e qual è stata la strada, le tue motivazioni? La curiosità di sapere dove puoi arrivare, la domanda che uno si fa e dice voglio andare oltre, mettersi alla ricerca. Tu perché volevi andare oltre? Il bisogno che diventa carburante, le necessità, la necessità di cambiare contesto, la necessità di cambiare ambiente, la necessità di dare una svolta che parte con l'azione, basta cambiare piccoli dettagli nel quotidiano, nelle piccole scelte. Stop. Perché? Cioè, secondo me poi. No, no, assolutamente, perché poi tu racconti la tua strada, chiaramente, tanti magari troveranno anche nelle tue motivazioni o in quello che tu racconti dei piccoli passaggi, dei piccoli pezzetti di un puzzle che magari serviranno a riempire il proprio percorso. Tanti piccoli, come dire, l'hai detto adesso, giorno per giorno si può cambiare? Il cambiamento non è improvviso. Nelle piccole cose, nelle piccole cose quotidiane, anche nel relazionarti con tua madre, con i tuoi genitori, con chi sta al tuo fianco, no? Già da qui inizia a cambiare tutto. Tu quando eri piccolo, come ti vedevi? Cioè, cosa immaginavi di fare? Non quello che stai facendo adesso. Tutto e di più pensavo di fare da piccolino. Ho sempre avuto magari questa cosa creativa, questo istinto creativo, che sia sul ring, che sul set, che magari nella vita quotidiana, nelle piccole cose. Secondo me, se tu hai un istinto interiore dentro di te creativo, artistico, e hai questa energia che esplode dentro di te, devi metterti alla ricerca della tua arte, del tuo genere, che è la musica, il cinema, la scienza, qualsiasi cosa è, qualsiasi argomento puoi sfruttare la tua creatività, la tua passione. Hai fatto riferimento prima al ring, perché comunque lo sport è stato anche un passaggio importante nella tua vita? Il più importante. Cosa hai imparato tu dallo sport? Dallo sport impari a essere uomo. Uomo è campione. Se tu vivi con la mentalità da campione tutti i giorni, diventi campione. Quindi devi pensare di essere un campione prima di diventare un campione. Se tu vivi tutti i giorni da campione, un giorno diventerai campione, capisci? Però lo manifesterai, capisci cosa voglio dirti. Fa parte dei pensieri e azione. È la mentalità dello sportivo che ti ha aiutato anche ad avere successo come attore? Certo, perché io sul set cinematografico, quando sono arrivato, non sapevo niente, non ero a conoscenza di questo mondo. Niente. Però, appunto, la disciplina, il carattere, il principio d'atleta, paragonato, ecco qui, su un palco, su un set cinematografico, l'energia è quella, sembra vincente, no? E iniziare ad entrare in delle dinamiche che vedi che sono molto simili al pugilato. Diventa tutto un gioco di immaginazione, creatività e istinto, stop, e amore, perché poi ci mettiamo sempre amore in quello che facciamo. La passione che muove il mondo. Se tu volessi dare un consiglio ai ragazzi che ti stanno vedendo, tanti hanno difficoltà, hanno problemi, anche a cercare il proprio posto nel mondo, a capire che cosa vogliono fare da grandi o anche fare del proprio presente, cosa diresti? Secondo me bisogna creare il suo spazio, ognuno di noi ha bisogno del suo spazio, a prescindere, anche quando la cameretta è stretta, magari ci sono, ecco qua, più persone in casa ed è difficile perché a volte non tutti hanno la situazione economica, quella lì elevata, che permette di vivere i tuoi spazi, ecco qua, ci sono, siamo un popolo grande, quindi c'è chi può e chi non può, però chi anche non può deve cercare di trovare il suo spazio, capito? Che qualsiasi suoi, in un parco, ecco qua, in un quadrato, il suo angolo, dove lui può dedicarsi alle sue cose, come io per farti capire, il primo provino di mare fuori l'ho studiato in macchina perché non avevo lo spazio, capisci? Quindi questa fame qua è quella lì giusta, capisci? Che nonostante non ho le cose, devo crearle, devo trovarle, devo mettermi alla ricerca e questo è l'istinto che smuove e cambia il mondo. C'è un podcast molto popolare in questi ultimi giorni, sta spopolando, in cui tu hai raccontato un altro episodio in macchina, mi è venuto in mente adesso, cioè un momento in cui tu hai detto, ok, adesso devo ragionare su quello che faccio, hai come in qualche modo pensato anche al tuo pensare a Dio, alla fede, hai rielaborato anche il tuo percorso da quel punto di vista. Sì, perché di generazione in generazione un uomo non può affidare tutti i suoi problemi su se stesso, crollerà, capisci? Per questo di antichità e di generazione in generazione c'è sempre stato un approccio spirituale, un approccio di fede che poi si entra in discorsi di religione, di etnia e della propria spiritualità perché anche è una cosa, penso, personale, ognuno di noi la percepisce a modo suo, ma il punto è quello lì, che comunque magari è così, capito? Nella solitudine e nella tribolazione esce l'uomo che sei, solitudine e tribolazione, servono a volte, capisci? E se tu non sei capace di affrontarle, non sei capace di, cioè, non farai niente, capito? In queste piccole cose, bisogna avere coraggio e tuffarti, non avere paura, non pensare troppo, perché se pensi troppo hai delle incertezze, rimani bloccato dove sei. Bisogna, capito, questa energia qua, boom, buttarla nell'arte, nella pittura, nella scienza, che fa il passicciere, nell'arte del capello, nei mestieri artigianali, in tutto, nella famiglia.